Come è previsto, tutto si è svolto, come è previsto, ho preso il possesso della sua carta, adesso comincia la nuova legislazione. La ringraziata per le prime frasi che ha detto, ringrazio il suo. Sì, credo che faccia parte della correttezza istituzionale che c'è tra un sindaco che lascia, è un sindaco che lo prende possesso, d'altra parte la sera in cui i risultati della nota vigente ho stato il primo a congratularmi con lei, credo che ci sono dei rapporti istituzionali e dei rapporti umani che vanno sempre mantenuti, che hanno la correttezza e la facilità, poi nel momento dei problemi si discute e se si è d'accordo si è d'accordo, se non si è d'accordo ci si è d'accordo. I rapporti umani sono stati abbastanza tesi le ultime tre settimane, un mese. No, ma va, la campagna elettorale è sempre un momento di maggiore sprenza, senza mai che questo incidesse sui rapporti personali, entrambi abbiamo fatto un'elettorale parlando di Torino e del suddito di Torino, confrontandoci, scontrandoci anche quando era necessario, credo che ho una correttezza che è un patrimonio di questa città. L'idea di tagliare il 30% dei costi come primo annuncio. Ma poi vedremo quando porterà tre di me. Grazie.